Benvenuti nella nostra realtà, adesso mettiamo giù le bici e cominciamo un bel percorso in mezzo alla natura e poi tra le nostre migliori proposte culinarie e poi ci fermeremo per un caffè anche, no? Per ripartire pieni di energia. Bene, allora la cooperativa alternativa ambiente ha 450 soci impegnati nelle varie attività della cooperativa alternativa. Benvenuti nell'orto sperimentale, vi presento Anna Paola, la nostra guida naturalistica che è qui oggi per spiegarci tutte le piante che coltiviamo nel nostro orto sperimentale. Allora, Piero vi ha parlato dell'orto sperimentale. Sperimentale significa che proviamo delle varietà un po' particolari, varietà antiche o delle varietà degli ortaggi che non abbiamo mai coltivato in questa zona. Vedete abbiamo Mary che sta curando le piante, sta facendo le raccolte degli ultimi ortaggi che abbiamo in questo periodo e questi sono dei fiori, fiori eduli, vediamo la salvia ananas che Milvia e Patrizia che sono venute oggi a trovarci stanno raccogliendo e anche assaggiando perché questi sono fiori che si possono mangiare, sono eduli. Continuiamo annusando queste piante che sono tutte piante aromatiche, potete accarezzarle perché le piante amano essere toccate. Con la nostra aiola centrale vedete un punto un po' magico per noi, il cuore del nostro orto, da cui si propaga la musica, c'è una cassa da sotto nascosta, musica che fa bene alle piante dell'orto ma propagandosi fa bene anche a tutte le nostre culture. Paola, grazie, è stato un piacere, bellissimo, complimenti. Grazie a voi e quando volete tornare io sono sempre qui e se mi dai, grazie, ai miei collaboratori volontari. Ciao Anna Paola, grazie nel tuo tempo, arrivederci. Andiamo adesso in pasticceria dove faremo una nuova esperienza che è quella del fare i biscotti con le nostre farine e i nostri prodotti biologici. Allora, qui siamo al ristorantino della colonia agricola e siamo alla fine del nostro percorso e ci beviamo un bel caffè e assaggiamo quello che facciamo nella pasticceria. Ottimo, perfetto. Prego. Ragazzi, grazie di essere venuti, buon viaggio, buona continuazione. È stato bellissimo. Prendete le biciclette e andate che il viaggio è lungo. Ciao, ciao. Grazie a tutti.